Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tragedia Urbino, agricoltore muore schiacciato dal suo trattore Arrestati due pakistani per i reati di sfruttamento del lavoro, caporalato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina La provincia pesarese fuori dai fondi per le zone rosse La denuncia della Lega che chiede alla regione di attivarsi per cambiare il decreto rilancio Fase 2, importante sempre sanificare e pulire le superfici La tecnologia aerospaziale al servizio della salute Quale paritaria rischio chiusura la smentita del presidente delle vie Venerini Il decreto rassicura siamo pronti a ripartire Buonasera cari te spettatori, benvenuti al telegiornale di Fanno TV Occhio alla notizia alle 20.30 tutte le sere dal lunedì al venerdì Partiamo dalla cronaca Un agricoltore di 77 anni, residente del posto, è morto alle 13 di oggi Schiacciato dal suo trattore in località Cesane di Urbino L'uovo stava percorrendo un tratto di strada sterrata in salita per recarsi in un appezzamento di sua proprietà Quando per ragioni, ancora in fase di accertamento, ha messo le due ruote del mezzo agricolo Sul ciglio del lato sinistro della carreggiata Facendo ribaltare il trattore sulla scarpata adiacente Il 77enne è rimasto sotto il mezzo agricolo rimanendo schiacciato E per lui non c'è stato nulla da fare Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia di Stato Che i carabinieri di Urbino, oltre al 118 I cui sanitari però non hanno potuto far altro a loro arrivo Che constatare il decesso dell'agricoltore Sul posto anche i vigili del fuoco di Urbino I quali per liberare il corpo dell'uomo Han dovuto far ricorso ad un autogru proveniente dalla sede centrale Che ha sollevato il pesante mezzo Continuiamo con la cronaca Gli agenti della squadra mobile di Ancona e Senigallia Hanno arrestato un trentenne pakistano E denunciato un connazionale cinquantenne Per i reati di sfruttamento del lavoro Caporalato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina I due reclutavano mano d'opera Per le aziende agricole delle province di Ancona e Pesero E approfittando dello stato di bisogno dei braccianti Imponevano dure condizioni di lavoro Turni di 12 ore al giorno E una paga inferiore ai 5 euro all'ora Alcuni lavoratori erano irregolari sul territorio italiano Per cui venivano pagati anche in nero Invece gli altri si vedevano in busta paga Assegnare un numero di ore inferiore a quelle effettivamente lavorate Bene, ed ora apriamo la pagina legata al coronavirus La provincia di Pesero-Urbino è fuori dai fondi per le zone rosse A denunciarlo sono Lodovico Doglioni e Mirko Carloni della Lega Che chiedono un intervento della Regione Per cambiare il decreto rilancio Sentiamo E' incredibile che due giorni fa è uscito un decreto Che prevede tra l'altro 200 milioni di euro A fronte di interventi urgenti da farsi nelle zone rosse E' incredibile che nessuno dei parlamentari della sinistra Che sono ben attivi nella nostra provincia Si sia accorto che la provincia di Pesero-Urbino Non era all'interno della lista delle province E quindi noi immediatamente stamattina abbiamo deciso di fare una richiesta immediata In maniera tale da poter rimettere dentro anche la provincia di Pesero E dare alla provincia di Pesero la possibilità di acquisire questi fondi Che sono fondi a fondo perduto per l'aiuto delle zone che sono state dichiarate rosse Ricordo che la provincia di Pesero è stata dichiarata rossa l'8 marzo Di quest'anno Ed è completato il 13 di aprile il momento della zona rossa Quindi è passato più di un mese E secondo il decreto abbiamo diritto anche noi di avere parte di questi 200 milioni La nostra regione anche in questo caso è stata dimenticata dal governo centrale Nonostante abbiamo rappresentanti importanti dello stesso partito Sia dei 5 Stelle che del PD in rappresentanza di questo territorio Ebbene abbiamo chiesto come Lega al Ceriscioli Di spiegare perché la nostra regione, la nostra provincia in particolare Che è quella che più di tutte ha patito gli effetti del coronavirus Sia una delle poche dimenticata dal decreto rilancio Che metteva a disposizione 200 milioni di euro per le province dichiarate a zona rossa La nostra provincia, Pesero Urbino, è già stata dichiarata zona rossa l'8 marzo scorso E nonostante questo ci sono stati esclusi questi contributi Credo che sia questo il vero segnale del rispetto che hanno per questo territorio Da parte del governo e in generale da parte del centro-sinistra Non è il momento della Movida e delle uscite in gruppo Un nuovo appello del sindaco di Pesero, Matteo Ricci Questa volta rivolto ai giovani Sentiamo Stiamo sparsi Questa è la parola d'ordine Da oggi, domani e domenica per il weekend Dobbiamo stare sparsi Non possiamo stare tutti insieme Ieri ho fatto un giro in viale con la bicicletta Ragazzi, devo dire che ho visto delle scene che non mi sono piaciute per nulla Gruppi di ragazzi insieme Amiche, amici, tutti insieme 10-12 persone Non va bene Non è questo il momento di stare tutti insieme Di fare la Movida Di fare l'aperitivo in gruppo, ecc Questo è il momento per scegliere un amico, un'amica Uscire, andare a bere una cosa Fare una passeggiata Prendere un gelato Avremo tempo per tornare in compagnia Ma non è questo il momento di farlo Mi raccomando Perché stiamo riaprendo gradualmente Ma il virus si è indebolito E non è ancora sconfitto E non vorrei nelle prossime settimane Dover richiudere di nuovo Mi raccomando Teniamo botte E siamo sparsi Rimanendo in argomento È evidente ormai Che anche nella fase 2 Rimane fondamentale Sanificare l'aria E anche le superfici Questa sera vi facciamo vedere Uno strumento Macchinario Sviluppato Niente meno Dalla NASA E venduto nel Pesarese Che è capace Di azzerare Anche il coronavirus Il servizio di Simona Zonghetti L'emergenza sanitaria Ci ha insegnato A non sottovalutare I nemici invisibili Dopo il lockdown Di oltre due mesi Alcuni hanno ricominciato A lavorare E tanti altri Sono ancora Alle prese Con la riapertura Ma per farlo Nel modo più sicuro Possibile È necessario Sanificare Tutti gli ambienti Ed evitare Il rischio di contagio Continuano e crescono Infatti Le richieste Alle ditte specializzate In merito Però Si è creata Un po' di confusione In particolare Sulle tecniche In grado di annullare La carica virale Per quella Ad ozono Ad esempio Non ci sono evidenze Scientifiche Che possa svolgere Una funzione Sterilizzante Per quanto riguarda Le sanificazioni Il ministero della salute Riconosce L'ipoclorito Di sodio L'etanolo E il perossido Di idrogeno Mentre i primi due Possono essere usati Solo in stato liquido L'unico che può essere usato Anche gassoso È il perossido Di idrogeno E questo macchinario Tramite un brevetto Della NASA Produce perossido Di idrogeno Questo strumento Certificato Dalla Space Foundation Grazie a una combinazione Di tecnologie Purifica l'aria E le superfici Imprigiona Le microparticelle E neutralizza Cattivi odori Allergeni Fumo Virus E batteri Fattori che Insieme a muffe E polveri sottili Possono condizionare La qualità della vita Questo macchinario Dà la garanzia Dalle prove Che abbiamo fatto In laboratorie Universitarie Che in meno di 24 ore Abbatte il 99,99% Di tutti I virus I cov Le muffe I pollini Le polvi Le micropolle Tira via tutto Le persone possono rimanere All'interno della stanza? È l'unica macchina Che sanifica 24 su 24 7 giorni su 7 Perché non arreca danni A esseri umani E animali Quindi mentre Tutte le altre sanificazioni Una volta fatte Bisogna areare i locali Ci vuole il tempo Ok? E più ci sono anche Prodotti che sono molto Pericolosi e nocivi Per gli esseri umani Quindi attenzione Questo macchinario Invece non ha nessun tipo di E infatti è riconosciuto Dal Ministero della Salute Come presidio medico Di classe 1 È una macchina Che ha bassissimo consumo Ha una garanzia infinita Non ha problematiche Non fa nessun tipo di rumore Fa solamente Si sente appena appena L'aria circolare E cambia l'aria Nelle stanze Circa 7 volte all'ora Il macchinario Il macchinario viene utilizzato Non solo in abitazioni Uffici e negozi Ma anche in ospedale Il reparto di pediatria Del Santa Croce È stato il primo Nosocomio marchigiano Ad utilizzarlo Grazie a una donazione Dell'Associazione Maruzza Forse eravamo stati Preveggenti Perché abbiamo donato Questo apparecchio A tutela di bambini Anzi È un consiglio Che io vorrei dare Anche alla nostra Amministrazione comunale Di cominciare a mettere Negli asili E nelle scuole Perché il CRN Ha documentato Che nelle scuole Negli asili Dove è presente Questo apparecchio Le assenze dei bambini Sono calate Il 700% Fano Città dei bambini Dovrebbe tutelare Al massimo La salute Dei nostri bambini In questo momento Con decreto ministeriale Questo apparecchio E viene Detrato Al 60% Della spesa imponibile Quindi L'IVA Non bisogna dichiararla Perché tanto va in detrazione E come tale Quindi anche Un grosso vantaggio Economico Per chi lo deve Acquistare Lorena Perché nella vostra Scuola di danza Avete optato Per questo tipo Di sanificazione Ci siamo interessati E informati E abbiamo Previsto Che questo macchinario Forse è il più Diciamo Valido Per una nostra Stuttura In quanto noi abbiamo Bambine Sia dai tre anni Fino a ragazze di 30 E più signore Che fanno Pilates E altre attività Ma dovendo Lavorare Dalle due del pomeriggio Fino alla sera Abbiamo pensato A questo macchinario Perché questo Continuamente acceso Ci fa lavorare In sicurezza E quindi siamo tranquilli Per la salute di tutti Bene E sempre A proposito Di coronavirus Direi che Ormai lo abbiamo Capito tutti In queste settimane Soprattutto quelle Del lockdown Sulla rete Insomma E sui mezzi Di social network Si sono sentite Veramente Di ogni e di che Insomma Bufale A più non posso E allora Il ministero della sanità Ha fatto un po' Il punto Della situazione Su alcune Le più comuni Vediamo In queste settimane A riguardo Argomento coronavirus Siamo stati Sottoposti A un vero e proprio Bombardamento Di notizie Opinioni Dati Valutazioni E anche Di bufale Sì perché Dall'overbooking Di notizie Soprattutto Apparse sul web Non era facile Scremare Anche quelle Che tra Deduzioni Pseudologiche Miste a credenze Popolari Si insinuavano Nel torrente di informazioni A cui potevamo Abbeverarci Spacciandosi Per affondate E certe Vediamo qui Un piccolo campionario Di quelle più sentite E dove Ancora una volta Però il sito Del ministero Della salute Ci corre in aiuto E ci chiarisce Le idee Bere latte Protegge E cura L'infezione Da coronavirus Non ci sono Evidenze scientifiche A riguardo E sull'azione Preventiva Nei confronti Dell'infezione Quindi Beviamolo Perché fa bene Ed è un alimento Completo È possibile Le mani E la pelle Disinfettarle Con i raggi UV I raggi UV Non devono essere utilizzati Per disinfettare Mani e pelle Le radiazioni UV Possono causare Invece irritazioni E danneggiare gli occhi Meglio usare Quindi Gli izienizzanti E lavarsi Più spesso possibile Le mani Mangiare peperoncino Protegge dal virus Anche qui Nessuna evidenza Scientifica Sull'aggiungere Peperoncino Ai cibi Più sicuro Il metro Di distanza Fisica Tra le persone Le mosche Possono diffondere L'infezione Non sono stati Fatti studi scientifici A questo riguardo Sulle mosche E su come potrebbero Rappresentare Un vettore esterno Del nuovo coronavirus Il virus Si sa di certo Che si trasmette Principalmente Attraverso Le vie erere E le goccioline di saliva Ma ci si contamina Anche toccando Superfici infette Quindi Prima di toccarsi Occhi Bocca E naso Lavarsi molto bene Le mani Acqua e bicarbonato Curano il covid-19? Nessuna Anche qui Comprovata azione Del bicarbonato di sodio Disciolto in acqua Né curativa Né preventiva Usiamolo Casomai Quindi Se non abbiamo Digerito bene E le zecche Possono trasmettere Il virus? Vedi Capitolo Mosche Queste sono Solo alcune Delle dicerie Che in questi giorni Sono passate Di bocca in bocca Alimentando anche Falsi opinioni Quindi Per non sbagliare Rimaniamo legati Alla tradizione Le uniche bufale A cui dare credito Sono quelle Che fanno Il latte Per fare Buonissime mozzarella E ora veniamo Alle vostre segnalazioni Perché a Fenile di Fano Una nostra telespettatrice Ci ha segnalato L'incuria Dei parchi pubblici Determinata Soprattutto Dalla presenza Di erba alta Guardiamo Salve a tutti Sto facendo questo video Per invitare il comune di Fano A venire a pulire I parchi pubblici di Fenile Questo è il campetto Della chiesa di Fenile Santi Pietro e Andrea Come vedete La panchina È piena di erba Arriva quasi a 50 centimetri L'altezza Delle gambe Stessa cosa Per la piazzetta Piazzale 4 ottobre Per poi arrivare Al parchetto In via del mulino Come vedete L'erba arriva All'altezza Del tronco Di quasi 60 centimetri L'altezza del bidone Qui Quando ci passano i cani Il pelo Si riempie di Erbacce Selvatica Anche qui Una panchina Quasi inagibile Erbacce I punti più alti Arriva anche a 60-70 centimetri Adesso vediamo una breve Di cronaca Però a lieto fine Perché i Vigi del Fuoco Nel pomeriggio di oggi Sono intervenuti In via Ceccarini In pieno centro A Fano Per soccorrere Un gatto Rimasto intrappolato In una bocca di lupo Dopo essersi Arrampicato Da un garage E poi Precipitato Da diversi metri D'altezza L'intervento Dei Vigi del Fuoco Ha permesso Di salvare L'animale Lasciandolo Poi subito dopo In libertà E quindi Ebbene Ciò che finisce bene Aperta al traffico La nuova rotatoria Di Cannavaccio All'altezza dello svincolo Della zona industriale Nei prossimi giorni Verrà realizzata La segnaletica orizzontale E l'efficientamento Della pubblica Illuminazione La rotatoria Si chiamerà Brombolona Riprendendo Il nome della storica Torre Che domina Sul centro abitato Di Cannavaccio Quest'opera Spiega il sindaco Maurizio Gambini È strategica Per la viabilità Di tutta l'area Ci consente Di migliorare La sicurezza In entrata Ed in uscita Dalla zona industriale Eliminando I rischi di svolta E file Di veicoli E nell'ultimo periodo Nelle ultime settimane È circolata Una notizia Di una possibile Chiusura Delle scuole paritarie La smentita Però oggi È arrivata Dal presidente Delle maestre Pie Venerini Che rassicura Siamo pronti A ripartire È uno degli istituti Più antichi Della città E la sua storia È parte integrante Della vita Di molti fanesi Sorta nel centro storico Nel 1857 All'angolo Tra via Montevecchio E via Nolfi La scuola paritaria Maestre Pie Venerini È stata frequentata Negli anni Da migliaia Di bambini E bambine Nel 2014 Poi le suore Che la gestivano Hanno deciso Di ritirarsi E affidarla A una cooperativa sociale In pochi anni Si è passati Da 114 alunni A oltre 200 L'istituto Ha una sezione Primavera Per bimbi Da 2 a 3 anni Una scuola Dell'infanzia Con 3 sezioni Da 20 bimbi Ciascuna E la primaria Con 7 classi Si sta pensando Inoltre di offrire Anche il servizio Di asilo nido Sono già garantite Invece la messa interna E le attività pomeridiane Da qualche giorno Però sta circolando La notizia Sul rischio di chiusura Delle scuole paritarie La smentita È arrivata oggi Dal presidente Della cooperativa Roberto Andreucci Certamente La difficoltà È alta Mi viene da dire Che io credo Che anche la scuola pubblica Viva Forse anche Una difficoltà Più grande Che in questo momento Se ne parli poco Perché riguarda Milioni di persone Quindi È più facile In qualche modo Focalizzarci Sulle scuole paritarie Per quanto ci riguarda Siamo In questo senso Al lavoro Come sempre Più di sempre Perché Quando noi siamo Arrivati qui Nel 2014 Addirittura Iniziare a gestire Questa scuola La situazione Era ben più Drammatica Di quella attuale Dal punto di vista Della stabilità Economica Per cui Siamo semplicemente Al lavoro E noi proseguiamo Con Serenità E certezza Per quanto riguarda Le linee guida Dovrete rispettare Quelle del governo Assolutamente Sì La nostra È una scuola paritaria Quindi è riconosciuta Dal ministero dell'istruzione Quindi felicemente Ci comporteremo Come tutte le altre scuole Le indicazioni Spiega Andreucci Dovranno poi essere Declinate Nella realtà locale Nel rispetto Delle linee guida Della regione Della regione E del comune Di riferimento Proprio con L'amministrazione Comunale Di Fano È in atto Una collaborazione Grazie a un dialogo Con l'assessore Mascarin Ci sono delle questioni Che riguardano tutti Che vanno affrontate Con serenità Con serietà Ma che non è Diciamo Un problema Solamente Di qualcuno Le iscrizioni Sono aperte E soprattutto Riuscirete poi A gestire gli spazi Abbiamo questa possibilità Di dire Passo passo E cercare di capire Quali sono Le esigenze Delle famiglie E quindi Mantenere sempre aperta La possibilità Che una famiglia Che si trovi In difficoltà O comunque Che abbia Un'esigenza Anche nuova Può rivolgersi a noi E vediamo Quello che si può fare Nel momento specifico Le iscrizioni Sono aperte Anche per il centro estivo La cooperativa In attesa Di ulteriori indicazioni Su date E norme da rispettare I nostri bambini Che ci ascoltano Che ascoltano la tv Che vedono magari I nostri visi preoccupati Che sentono Di chiusura Di fatica Capiscono Che c'è qualcosa Che sta accadendo Che supera E che tante volte Mette in preoccupazione Un po' tutti A noi ci interessa Come è sempre caduto Continuare ad essere Una presenza certa In questa realtà Una luce nel buio Non perché siamo Più capaci Più forti di altri Ma perché ci affidiamo Alla certezza Che muove E che costituisce La nostra realtà E questa scuola Sulla base di questa certezza Un po' come accadeva una volta I monaci costruivano Arrivavano i barbari Distruggevano tutto E i monaci Sulla forza E la certezza Della fede Il giorno dopo Ricostruivano tutto Questo è quello Che ci anima Ed ora sempre A proposito Dell'emergenza Coronavirus Parliamo Dei presidi Di sicurezza Quindi guanti E mascherine L'ASET Fa sapere Che mascherine E gel Sono stati garantiti Anche durante Il picco Del coronavirus Lo spirito Di collaborazione Ha fatto la differenza In un momento Difficilissimo Per le farmacie Comunali Qual è stata La fase Più acuta Dell'epidemia Covid Lo afferma il presidente Di ASET SPA Paolo Reginelli Aggiungendo che la strategia Adottata dalle farmacie Comunali di Fano Pesaro Urbino Civitanova E Riccione Ha garantito I cittadini Riguardando Così alla possibilità Di trovare Dispositivi Medici Decisivi Così per la salute In particolare Per le mascherine Chirurgiche Prosegue il presidente Reginelli Le farmacie Comunali Gestite da ASET Hanno assunto Un ruolo Attivo Nel calmirare I prezzi Alla vendita Alti Nella fase Iniziale Del contagio Perché i dispositivi Erano di fatto Introvabili Un impegno Quello di calmirare Che tra l'altro Era stato auspicato In modo esplicito Dall'amministrazione Fanese Domani 23 maggio I sindaci italiani Ricorderanno Giovanni Falcone Francesca Morvillo Paolo Borsellino E gli uomini Delle loro scorte Nel 28esimo Anniversario Della strage Di Capaci All'iniziativa Promossa da ANCI Aderisce anche Il comune di Fano Nel pomeriggio Di domani Il comune Ricorderà Le vittime Di mafia Con un minuto Di silenzio Rendendo omaggio A chi ha compiuto Fino in fondo Il proprio dovere Servendo lo Stato Il sindaco Massimo Seri Invita Tutta la comunità La comunità Fanese A ritrovarsi Idealmente Unita Alle 17.57 Per rendere Omaggio E ribadire L'impegno Comune Di istituzioni E cittadini Nel contrasto Di tutte Le mafie Bene Siamo arrivati In fondo A questa edizione Di Occhio alla Notizia Non prima Ci lasciamo Di avervi ricordato Che lunedì prossimo 25 maggio Riparte il programma Di Fano TV Primo cittadino A inaugurare Questa nuova stagione Dopo lo stop Forzato Di due mesi Sarà il sindaco Di Pesaro Matteo Ricci Bene Questo è tutto Grazie per essere stati In nostra compagnia Terminiamo qui Quest'edizione Di Occhio alla Notizia Arrivederci E buon proseguimento Con i nostri programmi Di Occhio alla Notizia